ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi sono andata o meglio stamattina alle verso le nove e mezza sono andata al centro commerciale di arese provincia di milano e sono andata più che altro perché dovevo fare degli acquisti al primark però mi sono fermata da vialetti e ho fatto l'acquisto di questi caffè allora questi sono caffè macinati gusto nocciola vaniglia e io ne ho presi due alla vaniglia però c'è al cioccolato e decaffeinato se ne prendi tre mi pare che costa dieci euro tre sacchetti e devo dire che sono buonissimi e questi vanno bene per la macchina del caffè quella della lidl silver crest e questi sono ottimi poi siccome nella silver crest vanno bene anche le cialde e molti mi hanno chiesto quali uso io uso queste della vialetti che adesso apro e vi faccio vedere non sono quelle con la scatolina in plastica ma quelli con la cartina sono praticamente questi che vanno benissimo appunto per la macchina del caffè ripeto quella della lidl alcuni mi hanno chiesto che il caffè in alcuni probabilmente con alcune cialde viene liquido semplicemente perché è forse sono leggermente più piccoli del miscelatore quindi vanno premuti vanno schiacciati bene e poi schiacciati all'interno del dosatore bene schiacciandoli proprio bene bene e facendoli aderire così in questo modo non passa acqua ma l'acqua calda direttamente va sulla cialda e qui fa uscire poi il caffè quindi non dovrebbe venire annacquato di questo è un consiglio perché le sto provando anche io queste sono leggermente più piccole e quindi tutte le volte le devo comprimere altrimenti per evitare qualsiasi problema date direttamente sui macinati su quelli per la moca che vanno benissimo per quella macchina del caffè poi al termine del video metterò appunto quello che ho girato del primark dei prodotti primark purtroppo era pienissimo e ho registrato poco però ci sono un po di cosine quindi se aspettate fino alla fine del video trovate appunto i prodotti della primark e vedete anche il giro che ho fatto mondadori allora dentro la mondadori adesso per chi non lo sa ha aperto starbucks prima c'era un piccolo bar adesso quel piccolo bar appunto è diventato starbucks lì si trovano tutte le cose del marchio peccato che è un po piccolino ci sono tre quattro tavolini altrimenti c'è spazio fuori il fatto che comunque adesso l'inverno può troppo freddino però diciamo che è carino e si sta ci sta insomma è un bel posticino di nicchia vi farò vedere la mia colazione super eccezionale che ho fatto ovviamente è stata una colazione un po fredda nel senso che io volevo a tutti i costi il frappuccino e frappuccino è freddo e berlo sinceramente all'aperto con meno uno non è stata proprio un'idea eccezionale però sono riuscita a non avere nessun tipo di problema intestinale quindi il cagotto imperiale non mi è arrivato e diciamo che è andata più che bene adesso posso farvi vedere le cosine che ho acquistato da primark allora ho acquistato dei pigiami per mio marito mio figlio e taglia uomo e per i maschietti che seguono il mio canale e amano i cartoni animati ho trovato per mio figlio questo xl di goku allora vi faccio vedere questa è la maglietta è il pantalone di cotone il pantalone leggermente pesantino non tantissimo però insomma per questa stagione può anche andar bene e questo se non sbaglio l'ho pagato 17 euro poi ne ho presi due sia per mio marito per mio figlio che amano call of duty spero di averlo pronunciato bene quindi maschietti perdonatemi se lo pronuncio in maniera sbagliata e questo è il pigiama praticamente la maglia e sul verde così militare e il pantalone è grigio questo l'ho pagato 15 euro questo sempre xl e poi quest'altro pigiama sempre per mio marito con il pantalone in tinta unita e le righine sulla maglia questo l'ho pagato 13 sempre xl adesso passo alle cose cicciose quelle che ho comprato per me quando posso da primark mi fiondo nel reparto dedicato alla disney e se trovo qualcosa di interessante che mi piace cerco di acquistarla ho preso due cose parto con quella piccola che è un porta profumo è bellissima io non amo particolarmente mini e topolino però quando ci sono queste cosine qui che mi piacciono molto che sono sfiziosi né da tenere sul comò sul comodino devo dire o in bagno devo dire che le trovo molto belle questa 4 euro e 50 adesso l'altro e vediamo com'è ma eccola qui è bellissima mini che carino è appunto per mettere per il nostro profumo preferito delizioso adesso passo alla cosa grandissima che ho trovato allora è una cosa che stavo cercando da un po di tempo ho provato non di disney ho provato su amazon ma erano un bel po costosine e quindi ho lasciato perdere oggi non pensavo e ho trovato quello che stavo cercando da tempo l'ho pagato 20 euro e su amazon costavano molto di più e poi questo è appunto firmato di me eccolo qui è gigantesco è il cofanetto cofanettone bellissimo dedicato sempre a minni adesso lo apro e vediamo insieme com'è la confezione è bellissima stupendo c'era anche di questo tipo lo specchio era rotondo e anche bello grande da tavolino con il bordo di questo colore qui tipo oro rosa e aveva le lampadine tutte intorno bellissimo anche quello ma l'ho lasciato lì perché ho preferito prendere quello di cui avevo più bisogno cioè questo cofanetto vado ad aprirlo è veramente enorme è stupendo allora questo è poi di una bellissima plastica molto resistente forte e i bordini qui tutto cioè tutto lo scheletro è appunto in acciaio è bellissimo e anche i pomelli sono credo siano alluminio anche questi non lo so bellissimo qui ci vanno un sacco di cosine bello davvero molto molto bello e grandissimo purtroppo erano rimasti quattro pezzi però essendo così gigante sullo scaffale non è che ce ne stavano molti di più quindi spero che li abbiano in magazzino e che se finiscono le rimettono fuori perché sono bellissimi davvero bellissimo sono quattro cassetti più tutto il ripiano per mettere trucchi bello davvero molto bello niente adesso vi lascio con la visione di quello che sono riuscita a riprendere però ripeto era talmente pieno che ho ripreso pochissimo e niente quindi vi lascio spero che il video vi piaccia se si lasciate un like e iscrivetevi al canale io vi aspetto in un nuovo video ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.